Oggi ragazzi vi voglio mostrare i pronostici fatti da me e Kekko su gli ottavi di Champions League e i sedicesimi di Europa League. Godetevi il video e diteci la vostra, diteci se la vostra squadra è andata bene o se è andata male e scriveteci anche i vostri pronostici. Secondo te chi passa fra Monchengladbach e Manchester City? Non lo so però aspetta perché il City non è proprio eccezionale 2 a 1 per il City? No ha perso 5 a 1 con il Leicester quindi non lo so in casa come passa il Monchengladbach? Ah te la rischi. Lazio e Bayern secondo te? Mani basso il Bayern. Atletico e Chelsea? Secondo me basta l'Atletico. Secondo me il Chelsea. Comunque per quelli di prima secondo me Bayern e Manchester City e Chelsea. Poi Lipsia e Liverpool? Lipsia e Liverpool. Lipsia. Liverpool. Porto e Juventus? Lipsia. Porto. Barcellona Paris Saint Germain? Ok. Barcellona Paris Saint Germain? Paris Saint Germain. Pure secondo me. Siviglia Borussia Dortmund? Stai calmo. Quindi secondo te Borussia Dortmund? Sì. Pure secondo me. Atalanta Real? Vabbè ovviamente è Real Madrid secondo me. Spero l'Atalanta e qui con l'Atalanta. Sono finito. Vabbè ok quindi ci sentiamo alle 13 quando ci saranno i sorteggi dell'Europa League. Ciao a voi e ciao ad Omar. Eccoci per i sorteggi dell'Europa League. Siamo sempre con Omar. Ciao. Allora secondo te fra Wolfsberger e Tottenham chi passa? È Tottenham. Tottenham easy. Ma no. Vabbè Tottenham. Dinamo Kiev e Club Bruges. Interessante. Dinamo Kiev e Club Bruges. Secondo te chi passa? Però Dinamo Kiev perché è il giro nella Juve. Ci sta. A me sta simpatica l'Ucraina quindi Dinamo Kiev. Real Sociedad e Manchester United. Real Sociedad. Sì secondo me pure. Perché è seconda in Liga o prima. Secondo me pure perché però di poco. Cioè secondo me sarà tipo una partita molto combattuta però alla fine secondo me la spunterà la Real Sociedad. Benfica Arsenal. Ah è prima. Sì lo so. Benfica Arsenal. 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 Ok secondo me pure. Vabbè ovviamente. Diciamo che i sedicesimi sono abbastanza ovvi no? Stella Rossa Milan. Ovviamente il Milan. No Milan. Antwerp. No. E Rangers. Rangers. Non c'è bisogno che urli. Ti ho chiesto ripeti non urla. Vabbè sì. Secondo me pure. L'Antwerp non so manco di dove sia. Slavia Praga. Leicester. 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 Un po' Leicester in Inghilterra. Salisburgo Villareal. Villareal. Spero il Salisburgo ma il Villareal. Braga Roma. Braga. Secondo me. Roma. Io Braga e spero Braga così. Crasno da Dinamo Zagabria. Dinamo Zagabria. E' pure in Champions. No la Dinamo Zagabria vedi che era in Europa League. Il Crasno da Reri in Champions. Vabbè pure il costo c'era. Aspetta. No la Dinamo Zagabria non era in Champions. insomma. Non è nel girone con l'Alazio? No. Nel girone con l'Alazio c'erano il Club Bruges e lo Zenith mi pare. Sì lo Zenith. Erano il Club Bruges e Zenith. Ok. Young Boys e Leverkusen. Sì dai sì. Molde. Offenheim. Offenheim. Mi sta pure simpatico l'Offenheim. Quindi Offenheim. Granada o Napoli? Napoli. Secondo me il Granada potrebbe riuscire dai. Quindi Granada. Tel Aviv. O Shakhtar. No. Shakhtar. Los Klil. Ajax. 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 Olympiacos o PSV? Olympiacos. No secondo me PSV. Anche perché mi sta simpatico il PSV. Quindi io spero il PSV. A prescindere. Quindi questi erano i nostri predict. Poi a fine. A fine. Quando si giocheranno gli ottavi. E i sedicesimi. Faremo la reazione ai nostri predict. E vedremo se abbiamo azzeccato o no. Quindi. Ciao. 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 Grazie a tutti